Maltempo, allagamenti e tanti problemi, anche questa ondata di pioggia e vento non ha risparmiato la provincia di Lucca, diversi allagamenti nella Piana e in Bersilia, un fulmine rende inagibile la chiesa di Capezzano Monte. Uniti per salvare i lavoratori SNAI, istituzioni e sindacati decisi a difendere i 64 posti di lavoro a rischio, questa la volontà emersa nel corso della trasmissione Dido ieri sera. Profumi e sapori targati Desco, al via da oggi la mostra a mercato dei prodotti tipici della provincia di Lucca, organizzata dalla Camera di Commercio alla Real Collegio. Lo sport e il calcio, lucchese non fidarti, i rossoneri domani di scena sul campo del Racing Club Roma, avversario alla portata ma da non prendere sotto gamba. Il nuoto, stelle e risultati al Mussi Lombardi-Femiano non ha tradito le attese la manifestazione dedicata ai tre agenti. Star indiscussa Federica Pellegrini. Buonasera e buon sabato di nuovo dal TG Noi. Apriamo questa edizione parlando del maltempo che si è abbattuto sulla provincia di Lucca nelle ultime ore, soprattutto nella notte fra venerdì e sabato. I problemi maggiori nella piana di Lucca con numerosi allagamenti. Ci spiega tutto Luigi Casentini. Sono stati circa 125 mm di pioggia registrate nelle ultime 24 ore dal Consorzio di Bonifica Toscana Nord, impegnato per tutta la notte insieme a Protezione Civile, Vigili del Fuoco e tecnici dei vari comuni della piana ad arginare i problemi che si sono venuti a creare soprattutto nella zona di Porcari. Il rio Leccio ha raggiunto il livello massimo, provocando alcuni fontanazzi e degli smontamenti e invadendo la sede stradale nella zona di via Toschino. La forza della piena ha mandato in pressione il ponte sulla via Pesciatina, tanto da rendere necessario il taglio dell'argine nell'area di Bonifica. La scropo precauzionale è stata allontanata una famiglia per l'allagamento del piano terra. Sorvegliato e speciale anche il Fossa Nuova, che per tutta la notte e la prima mattinata è stato a livelli di guardia. Nel comune di Monte Carlo sono stati effettuati tre soccorsi a persone rimaste bloccate in auto a causa del livello dell'acqua sulle strade e via dei Micheloni è stata chiusa al traffico per tutta la notte. Nel comune di Alto Pascio, sempre a scopo precauzionale, sono state allontanate cinque famiglie a causa dell'allagamento dei piani bassi in località Tarsinaia. La prefettura ha attivato la sala operativa unificata, anche se a seguito del miglioramento delle condizioni atmosferiche, la situazione è andata poi normalizzandosi nel corso della giornata. Per fortuna l'allerta meteo continua fino alla mezzanotte di oggi, ma le condizioni sembrerebbero in netto miglioramento. In Versilia alcuni problemi, soprattutto a Capezzano Monte un fulmine ha colpito la chiesa rendendola inagibile. 200 mm di pioggia caduti in una sola notte. È il record della notata di piogge temporali eccezionali che ha investito anche la Versilia. Il primato sulle Apuane, nello Stazemese, a Cardoso, ma le precipitazioni abbondanti hanno colpito tutta la piana, specie tra Pietrasante e Camaiore, come riferisce il consorzio di bonifica Toscana Nord. Sempre ampiamente sotto controllo i fiumi Versilia e Baccatoio, dove si sono registrate le situazioni più critiche. Notte di tuoni e fulmini che si sono scagliati in collina. A Capezzano Monte la chiesa è stata dichiarata inagibile dai vigili del fuoco. Le saette, per due volte intorno alle due, hanno colpito la cupola della chiesa, provocando danni notevoli alla volta. Tanta paura nel paese, con gente svegliata di soprassalto. Abbiamo sentito un temporale forte, poi prima un tuono fortissimo che molto probabilmente si è scaricato sul palo dell'Enel e il secondo, quando ci siamo svegliati per staccare televisione e cose, l'abbiamo fatto in tempo perché è arrivato un secondo botto allucinante e stamattina ci siamo accorti che la cupola era completamente sventrata. Era un bel boato fortissimo. Io non ho avuto il coraggio a facciarmi alla finestra, mi sono proprio spaventata. La chiesa resta chiusa e attende lavori di restauro. Dagli abitanti della zona un appello per aiutare la comunità di Capezzano. La nostra chiesa è al centro del paese, ci siamo tutti molto legati, noi siamo un paese che ci si dà da fare sempre, però abbiamo bisogno di aiuto a questo punto. È una cosa che lì è tanta roba, c'è proprio da aiutarci qualcuno estra. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco e della protezione civile in tutta la Versilia. Alla mezzanotte di sabato cessa l'allerta meteo arancione, che si lascia alle spalle una scia di danni, per fortuna contenuti. Lasciamo la pagina dedicata al maltempo, ma continuiamo con la cronaca. Una donna straniera di 40 anni è stata trovata senza vita in un appartamento abitato da extra comunitari in Viale Sardegna, San Vito, alle porte di Lucca. Le cause della morte sono ancora tutte da accertare. È stato un inquilino a dare l'allarme dopo aver rinvenuto il corpo della signora senza vita sul posto. Sono intervenute un'automedica e un'ambulanza, ma per la donna non c'era più niente da fare. Visto l'accaduto è stata chiamata anche la polizia che dovrà far luce sul fatto e capire che cosa abbia provocato il malore che è costato la vita alla donna. Tutte da accertare anche le cause della tragedia avvenuta ieri sera al frizzone, all'inizio della cavalcavia che porta l'autostrada tra il comune di Porcare e quello di Capannori. Un uomo di 65 anni, Ermene Gildo Flosi, di Pescia, è stato travolto da un'auto che stava sopraggiungendo. Incidente probabilmente causato dalla scarsa visibilità. In quel momento era buio, la strada non è illuminata e pioveva. Per l'uomo non c'è stato niente da fare, nonostante gli immediati soccorsi chiamati dalla moglie che si trovava in auto con lui e ha assistito alla scena terribile. Anche l'automobilista che si è subito fermato. Adesso a Porcari torniamo sulla vicenda della SNAI. Ieri sera la trasmissione Dido tutta dedicata a questa situazione. In collegamento in diretta anche ai lavoratori da Porcari. Istituzioni e sindacati decisi a difendere 64 posti di lavoro a rischio alla SNAI di Porcari. Questa la volontà emersa nel corso della trasmissione Dido di ieri sera. In studio e in collegamento dal municipio i rappresentanti del comune di Porcari e dei lavoratori che hanno parlato dell'inaspettato atteggiamento di chiusura di una società alla quale Porcari ha dato sempre la possibilità di espandersi e che comunque basa la propria attività su una concessione pubblica e che quindi non può permettersi di essere indifferente alle esigenze del territorio. Mentre si attende una presa di posizione dal governo, dopo le interpellanze dei parlamentari Mariani e Marcucci, i sindacati, nel prossimo incontro fissato con l'azienda per lunedì prossimo, chiederanno l'adozione dei contratti di solidarietà. Nel corso della trasmissione, l'ex patron della SNAI, Maurizio Ughi, pur non potendo garantire alcuna certezza, ha detto che qualora ci fossero esuberi, si impegnerà a trovare loro una nuova occupazione presso altri concessionari di scommesse, quindi concorrenti della SNAI. L'attuale stato d'animo dei dipendenti è stato ben espresso da un giovane lavoratore. Porto l'esempio del mio reparto, dove c'è stato un forte dimanzionamento dovuto proprio allo spostamento della sede legale, quindi abbiamo delle persone che, essendo dimanzionate, non hanno più del lavoro da svolgere, altre invece che sono oberate di lavoro. Ci troviamo male tutti, perché chi non ha niente da fare si sente inutile, mentre invece quelli che tutto il lavoro grava su di loro lo fanno, vanno avanti a fatica, ma torna anche male con gli altri colleghi, far vedere che si ha tutta questa mole di lavoro e gli altri che invece non ce l'hanno. Si creano proprio delle situazioni di disagio tra di noi e questo penso che sia la cosa più grave, perché sarebbe importante invece rispettare anche, c'è la crisi, tutti i problemi, però la dignità umana. La dignità umana va rispettata sempre ed è la prerogativa principale da porsi in queste situazioni, in tutte le situazioni. Io penso che sia la cosa più grave. Ancora la cronaca, Forte dei Marmi aveva scelto la Pineta per la sua attività di spaccio di cocaina in pieno giorno. Un giovane marocchino di 23 anni, clandestino, senza fissa dimora, è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato, della squadra anticrimine, del commissariato di Polizia di Forte dei Marmi. Addosso gli agenti hanno rinvenuto ben 30 dosi di cocaina confezionata per il peso di 25 grammi e varie centinaia di euro. E sempre a Forte dei Marmi questa mattina c'è stato un tentativo di rapina all'ufficio postale di Vittoria Apuana, però il colpo è fallito. Hanno tentato di rapinare le poste di Vittoria Apuana, ma stavolta è andata male. Fallito il colpo ai danni dell'ufficio postale di Via Padre Ignazio da Carrara, dove intorno alle 8 di mattina, in due a volto semi coperto da un fazzoletto, si sono introdotti armati di trincetti e intenzionati a farsi consegnare il denaro. È stato uno dei due impiegati all'interno a reagire alle minacce. Dalla reazione è sorta una piccola colluttazione che ha portato lievi feriti al dipendente, che è riuscito comunque ad allontanare i malintenzionati, grazie anche al sistema di allarme entrato in funzione. I due si sono dati infatti alla fuga, a mani vuote. I due impiegati non si sono dati per vinti e hanno inseguito per strada i rapinatori, fuggiti in direzione della chiesa. Di loro per adesso non c'è traccia. Sul posto gli agenti del vicino commissariato di polizia di Forte dei Marmi, con il personale della scientifica per i rilievi, da verificare le immagini della videosorveglianza per capire come i banditi siano riusciti ad entrare. Si tratta del secondo colpo in pochi mesi, il primo andato a segno. Il 2 luglio scorso, all'ora di pranzo, in tre avevano minacciato il direttore facendosi consegnare circa 50 mila euro, ma il bis non è riuscito. E' scomparso all'ospedale Versiglia dove era ricoverato Mario Orzi, 64 anni, sopravvissuto alla strage ferroviaria del 29 giugno 2009 a Viareggio, nella quale hanno perso la vita la moglie Roberta Calzoni, 54 anni, la figlia Sara Orzi, 24 anni. Mario Orzi era malato da tempo di SLA, nonostante i suoi problemi fisici, però ha sempre seguito le udienze del processo per la strage e nelle varie iniziative promosse per chiedere giustizia e verità. La provincia di Lucca e il comune di Bagni di Lucca dicono no all'impianto idroelettrico sul torrente Lima con una lettera ufficiale inviata alla regione. Due enti chiedono alla regione toscana che venga tenuta in opportuna considerazione la risorsa naturalistica, ma anche turistica ed economica che questo tratto di torrente rappresenta. Ora parliamo del Desco, oggi l'inaugurazione, si tratta del primo weekend, domani anche aperte le porte. Dieci giorni sotto il segno dei sapori e dei saperi lucchesi, taglio del nastro per l'edizione 2016 del Desco, la mostra mercato dei prodotti tipici della provincia di Lucca, allestita come di consueto al Real Collegio, nel cuore del centro storico del capoluogo. Insaccati, formaggio e derivati, olio, vino, miele, pane, chi più ne ha più ne metta. Il paniere offerto dai 46 stendisti è ricco e variegato. Ma anche quest'anno il Desco non è solo possibilità di assaggiare e acquistare prodotti. Tutti i giorni sono in programma show cooking, incontri, degustazioni guidate e attività per i piccoli. Ogni fine settimana avrà un tema di fondo, oggi e domani l'argomento sono le spezie e le erbe spontanee. I numeri, ricordo quelli dello scorso anno, si arrivò a sfiorare le 60.000 presenze, quindi dei numeri veramente importanti. Quest'anno tentiamo di replicare, anche se secondo me il vero risultato non è tanto quello, perché a me dipende anche da fattori esterni, quali sono quello climatico, che oggi certo non ci aiuta, ma sono l'impegno e la determinazione di tutti gli operatori, indubbiamente la Camera di Commercio, ma tutti gli operatori e tutti gli espositori che veramente si danno un grande affare. Le porte del Desco ad ingresso gratuito rimangono aperte dalle 10 alle 19.30. E ora Gallicano dove i giovani sono stati protagonisti di una giornata alla scoperta delle istituzioni. Un consiglio comunale davvero speciale, quello che si è celebrato venerdì mattina in comune a Gallicano e al quale hanno partecipato i giovani della scuola primaria e secondaria accompagnati dalle loro insegnanti. I giovani precedentemente avevano elaborato temi di esporre al sindaco e a Silvia Simonini, che è la delega alla scuola, e lo hanno fatto con assoluta disinvoltura e personalità. Tanti temi affrontati nel corso della discussione, dalla mensa alla raccolta differenziata, ma si è parlato anche del progetto di Cineforum e poi del giardino scolastico. L'incontro aveva soprattutto lo scopo di avvicinare i giovani alle istituzioni per capire la partecipazione democratica con cui si amministra una comunità. Saranno loro infatti i gallicanesi del domani che saranno chiamati a guidare la collettività. Al termine dell'incontro, in collaborazione con il periodico locale Laringo, i giovani maschietti sono stati invitati a colorare un murales che verrà inaugurato in occasione della giornata dedicata contro la violenza sulle donne, che alcuni graffitari hanno iniziato a colorare. Adesso, come ogni sabato, il messaggio dell'Arcivescovo di Lucca, Italo Castellani. Come noto, questa domenica Papa Francesco chiude l'anno del Giubileo, quindi la Porta Santa della Basilica di San Pietro, così anche come tutte le cattedrali delle varie dioce del mondo, così anche noi a Lucca, io stesso, chiuderò l'anno giubilare in cattedrale. Ma cosa ha significato questo anno giubilare, l'anno della misericordia per i cristiani? Guardate essenzialmente questo. Molti di noi sono andati a Roma, no? E hanno passato la Porta Santa di San Pietro. Io stesso sono andato con i nostri cresimati dell'anno, sono andato col pellegraggio di Cesano. Tanti gruppi e varie realtà, associazioni sono andate da Lucca. E così nelle porte santi aperte in diocesi. Sificato dell'anno giubilare, Gesù dice io sono la porta, chi passa attraverso di me trova la vita. Ed ecco allora che trova chi incontra Cristo, trova misericordia. Dio è un Dio accogliente, è Padre. Ma tutto questo comporta che anche noi, Lui Padre ricco di misericordia, anche noi, ecco passata la Porta Santa, del nuovo impegno, essere Porte Santa, cioè apportare misericordia, relazioni evangeliche, secondo il Vangelo, tutti i giorni, là dove viviamo. Ma dei segni concreti restano in diocesi, fra le porte aperte, le porte santi, la catedrale, il carcere e così via. Ecco, resta aperta. La Chiesa di San Giusto è stata una bella esperienza, una porta aperta per le confessioni. La Chiesa di San Giusto in città, ma anche quei luoghi di misericordia su tutto il nostro territorio, queste sono le nostre chiese. Poi il seminario, una porta santa, ma luogo di accoglienza e aiuta i giovani per capire il senso della loro vita. Cosa voglio farne di bello della mia vita? Una porta santa, il seminario. Ed ancora i centri di ascolto sul nostro territorio, i centri di ascolto della carità, importanti questi luoghi di accoglienza, porte aperte. Ed ancora la solidarietà di vicinato. Sì, questo è importante. Ogni famiglia ha una porta aperta, accogliente. Ritroviamo il senso della solidarietà di vicinato, una porta quotidiana. È tutto per la prima parte del TG Noi. Una pausa e poi ancora insieme per la pagina sportiva. Grazie. Grazie.